Ehi! 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 C'è la lavo! Chiaro? 1 a 1! Come ho fatto io per il telagio posteriore! Poi ho fatto così per il telagio posteriore! Io ho fatto così per il telagio posteriore! E poi dopo la parte di dietro Stai lampeggiando questa colla? Stai lampeggiando questa colla? Stai roffa la colla Ok, ho lampeggio la colla Dai scendo io! Stai! Stai! Stai paneggia! Stai! 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 Questa volta ti ho beccato Andiamo a prendere la macchina Andiamo a prendere la macchina Ha aperto una ruota Andiamo a prendere la macchina 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 A prendere la macchina